...della vittoria della motonautica italiana nelle acque del suggestivo lago di Sabaudia. Alla presenza animatrice del Duce, il Conte Rossi di Montelera batte di 9 km il primato mondiale di 6 litri alla media di 122 km e 225 metri su scafo Baglietto con motore Maserati 16 cilindri. Grazie a tutti Grazie a tutti